Il tema dell'astensione è un tema che riguarda tutta la politica italiana, è un tema con cui dobbiamo confrontarci, abbiamo bisogno che vi sia una politica partecipata da parte dei cittadini, che vi sia una politica che sia capace di creare attenzione nei confronti dei cittadini, noi stiamo provando a farlo, anche le proposte che abbiamo presentato oggi vanno in quella direzione, cioè di rafforzare l'elemento della partecipazione, però è un tema che riguarda tutti i partiti e non solo il Partito Democratico.